Horizon War Zero Dark. Vediamo cosa ci serve per giocare. Allora innanzitutto la cosa più banale miniature. Qualsiasi dalla vostra collezione andrà perfettamente bene. Un gioco tipico prevede dalle tre alle sei miniature ma più comunemente quattro. Ad un numero di miniature di eroi andrà a corrispondere un numero contestuale di miniature nemiche. Quattro eroi saranno necessari almeno quattro soldati semplici, quattro soldati elite ed un boss. Inoltre potrebbe essere necessario se lo si vuole aggiungere unità speciali che andremo a vedere in seguito. Ci serviranno poi dei comuni dadi a dodici facce, comunemente chiamati D12. Un mazzo di normali carte da gioco inclusi jolly. Questo servirà a governare le unità nemiche durante il gioco. Inoltre come in altri giochi di miniature sarà necessario righelli e misuratori di vario tipo o semplice metro che si ha a disposizione. Anche qui come in tutti gli altri giochi le misure sono espresse in pollici. Infine ci servirà una superficie sulla quale giocare. Tipicamente sarebbe richiesto una superficie di 4 piedi per 4 piedi, 120 cm per 120 cm ma può essere tranquillamente giocato su superfici più piccole. Ad esempio il classico 3 piedi per 3 piedi, 90 cm per 90 cm. Zero Dark può essere giocato in solitario contro i nemici controllati dalle carte. Cooperativo esattamente come in solitario ma controllando gli eroi in gioco insieme ad un'altra persona. O competitivo quindi uno contro l'altro mentre i nemici sono controllati dalle carte e fanno da sottofondo al gioco. Il gioco è stato scritto con in mente miniature in scala 28 mm ma si può adattare anche scale diverse come ad esempio si potrà utilizzare la scala 15 mm semplicemente convertendo i pollici in centimetri. Nel profilo di un eroe troviamo le seguenti caratteristiche. M mobilità è la capacità atletica del nostro personaggio ed indica quanto veloci si muoveranno nel campo da gioco o quanto bravi a saltare o scalare superficie. F combattimento questa caratteristica riassume la qualità dell'arma impugnata così come la capacità di colpire a distanza. A di acutezza è l'intelligenza e capacità di improvvisare sotto pressione utilizzata nei test per interagire con obiettivi o altri oggetti. Per medicarsi e soprattutto per eseguire azioni di hacking e buffing vedremo in seguito nello specifico come funzionano queste azioni. Disciplina è la predisposizione a rimanere in battaglia quando le cose si fanno dure e soprattutto è la caratteristica che decide la capacità del personaggio in corpo a corpo. Per mettere insieme il nostro team avremo a disposizione 15 punti da spendere nelle caratteristiche elencate fino adesso. Ognuna di queste potrà andare da un minimo di 2 a un massimo di 6. Inoltre alle statistiche base si aggiungono due statistiche secondarie. A V valore armatura questo valore parte da una base di 1 e può essere gratuitamente incrementato a 2 o ridotto a 0 per migliorare la mobilità del personaggio. Inoltre sarà possibile aumentare ulteriormente questo valore acquistando dei miglioramenti. FW è Firewall, la capacità di difendersi da attacchi elettronici. Il valore base anche qui è 1 o 2 se il personaggio è un sintetico. Vedremo dopo i maggiori dettagli cosa vuol dire sintetico. Infine i nostri personaggi sono caratterizzati da una categoria di cilindro che va da 1 per una basetta di 25 mm e altezza 10 fino a 6 cioè basetta 60 mm e altezza 70 mm. Questo come vedremo meglio in seguito servirà a definire la linea di vista e la capacità di movimento di un personaggio. Quando si esegue un test si prende la caratteristica richiesta per quel test e si tira un numero di dadi pari al suo valore salvo eventuali modificatori e si sommano i dadi per ottenere il risultato richiesto da quel test. Quindi ad esempio se un test richiede di utilizzare la disciplina di un personaggio come ad esempio disciplina 3 vuol dire che andremo a tirare 3 soli dadi. A quel punto ci interessa sapere qual è il valore che ci fa ottenere un successo. Mettiamo caso che il valore è 10 quindi tiriamo i 3 dadi e andiamo a sommarne il valore per stabilire se abbiamo raggiunto il valore che stavamo cercando. Ad esempio in questo caso 8 più 7 sicuramente maggiore di 10 l'1 non verrà utilizzato ad esempio. Se durante i test si ottiene un 12 questo è considerato il 12 fortunato ed è un successo automatico. Quindi ad esempio in questo caso il 12 di per sé è un successo più stavamo cercando di ottenere 10 quindi il 12 stesso è un altro successo. Facciamo un altro esempio mettiamo che dovremmo ottenere valore 10 sul test di acutezza sempre con valore 3. 7 e 3 è un successo l'8 non è sufficiente quindi anche in questo caso abbiamo ottenuto un solo successo. Di nuovo se avessimo ottenuto un 12 avremmo in questo caso ben 3 successi. Il primo successo è ottenuto dalla somma da 7 più 3 inoltre il 12 è un successo perché è maggiore di 10 in più è il numero fortunato che aggiunge un ulteriore successo. Il gioco è un sosseguirsi di azione dell'eroe e azione delle forze ostili. Ogni azione in base ai propri successi può generare azioni bonus aggiuntive che andranno necessariamente svolte subito dopo l'azione principale. Andiamo a vedere quali sono le possibili azioni degli eroi. Vediamo adesso quali sono le azioni base di movimento. La più comune e la più utile è il movimento cauto. Quando si esegue un movimento cauto si muove il modello fino al massimo della sua caratteristica M di movimento. Mettiamo che il nostro modello avesse M4 possiamo muoverlo fino a 4. Questo tipo di movimento richiede un test di disciplina. Mettiamo caso che la disciplina del nostro modello fosse 3. Andiamo quindi a tirare 3 dadi. Il risultato che stiamo cercando è uguale alla distanza percorsa per 2 più 1 per ogni nemico entro 12. Mettiamo che in questo caso nel nostro esempio non ci fossero nemici entro 12. Quindi il valore che stavamo cercando era 4 per 2 è 8. Abbiamo ottenuto un 2, un 3 e un 1 fallendo il test. Facciamo un altro esempio. Mettiamo che avendo caratteristica di movimento 4 muovessimo soltanto di 2 per esempio. E come prima la nostra caratteristica di disciplina è 3. Quindi tiriamo i 3 dadi cercando di ottenere 2 per 2. Abbiamo ottenuto ben 3 successi. Ecco in questo caso il primo successo va a eliminare l'azione principale che ci avrebbe indicato la prima carta sul mazzo. E gli altri 2 successi ci sarebbero stati utili per eseguire azioni bonus. Vedremo in un attimo quali azioni bonus sono disponibili. Facciamo un altro esempio pratico. Stesso caso il modello ha movimento 4. Decidiamo di eseguire un movimento cauto. Entrambi i nemici sono girati di spalle. Come vedremo all'inizio del gioco i nemici non sono in allerta e quindi hanno un raggio di visione pari a 180 gradi. Decidiamo di muoverci di 2. Quindi adesso il test disciplina avverrà su un valore di 2 pollici moltiplicato per 2 è 4 più 1 per ogni nemico. In questo caso 2 per un totale di 6. La nostra trista disciplina è di nuovo 3 abbiamo ottenuto anche un 12. Il 12 è un successo più il fatto che 12 sia maggiore di 3. Quindi di fatto sono 2 successi più il 9 è un altro successo per un totale di 3 successi. Come prima il primo successo va a eliminare l'azione principale dei nemici. Durante un movimento cauto non si può variare l'altezza quindi anche in questo caso non si può salire sulla cassa. Vediamo il secondo dei movimenti base ed è il movimento normale. Mettiamo caso che come prima il nostro modello ha movimento 4 ci limitiamo a eseguire l'intero movimento raddoppiato. 4 per 2 o durante un movimento normale così come nel movimento urgente che vedremo tra un attimo si può variare l'altezza fino a metà dell'altezza del modello. Quindi si potrà scavalcare la cassa senza penalità. Ci si potrà fermare sopra la cassa senza penalità. Non si può invece salire, scalare su superfici più alte della metà dell'altezza del modello. Infine il movimento urgente che è 3 volte la caratteristica di movimento. Mettiamo che come prima era 4 per 3,12. Però al termine del movimento si ottiene un segnalino stordito. Se un eroe ottiene lo stato stordito, tutte le sue statistiche sono ridotte di 1, non può più eseguire movimento urgente. Inoltre se prende di mira un nemico questo sarà considerato come oscurato più 1, che vuol dire che se era già in copertura sarà ulteriormente coperto. Vedremo poi come funziona la copertura in questo gioco. Per togliere un segnalino stordito richiede un'azione quando il personaggio eroe non è in vista di un nemico. Altrimenti durante un'azione medicare, anche se l'effetto dell'azione medicare non è effetto, si rimuove un segnalino stordito. Per ogni azione si rimuove un segnalino. Se invece ad essere stordito è un nemico, si annulla la prima girata della carta del mazzo, quindi l'azione principale dei nemici. Una volta risolta l'attivazione dei nemici, tutti i nemici prendono stordito meno 1, quindi in questo caso tornano normali. Vediamo adesso le azioni di movimento avanzato. La prima è saltare su o giù da una superficie. Ad un personaggio è permesso saltare fino al massimo della sua altezza e bisogna eseguire un test movimento meno valore di armatura e ottenere un risultato di 10 per riuscire. Quindi mettiamo ad esempio che come prima il personaggio avesse una caratteristica di movimento di 4 e il suo valore di armatura è 1. Abbiamo 4 meno 1, 3, il numero di dadi che si va a tirare, e bisogna ottenere un 10. Abbiamo ottenuto 4, 12 e 8, quindi il 12 come sempre è un numero fortunato che ci dà un successo automatico. Più abbiamo ottenuto il 12 che è maggiore di 10, quindi sono due successi più che sufficienti per saltare sopra questo container. In questo caso l'ostacolo ha una superficie maggiore della larghezza della basetta e quindi ci si ferma sul bordo. Se invece l'ostacolo da saltare avesse avuto una superficie di larghezza inferiore o uguale alla basetta, il personaggio sarebbe atterrato dal lato opposto. Se si sta invece cercando di salire saltando in alto una superficie maggiore o comunque fino a doppia dell'altezza del personaggio, il risultato da ottenere non è più 10 ma 13. Mettiamo anche in questo caso movimento 4 meno armatura 1, 3, 3 dadi. Dobbiamo ottenere 13, quindi un solo successo ma è sufficiente a salire sopra. Mettiamo invece che si voglia eseguire un'azione di saltare da a una superficie. Per eseguire questo tipo di salto il test è il solito di prima, quindi movimento meno valore dell'armatura, ma il risultato da ottenere sarà il doppio del valore che si sta cercando di saltare. Quindi in questo caso 2 pollici per 2, 4. Tirano quindi di nuovo i nostri 3 dadi, movimento meno valore dell'armatura, 4 meno 1 per questo personaggio e bisogna ottenere come detto 4. Per ogni successo sarà un pollice di distanza. In questo caso abbiamo ottenuto due successi che sono sufficienti per saltare dall'altro lato. Avessimo ottenuto un solo successo saremmo cascati giù. Dunque quando si cade mentre si sta tentando di attraversare uno spazio si subisce due colpi per ogni pollice di caduta arrotondati per difetto. Si può contrastare questi colpi con un test sul valore dell'armatura cercando un risultato pari al numero di colpi subiti. Quindi facciamo caso, siamo caduti da qui, quindi sarebbero due pollici e mezzo, quindi due pollici di caduta, due per due, quattro colpi. Il che vuol dire che il nostro valore dell'armatura era uno, tiriamo un solo dado e dobbiamo ottenere più di quattro. Avendo superato il test non si subiscono ferite. Si può salire a una scala di questo tipo senza problemi con un normale movimento. Mentre una scala di questo tipo richiede un'azione arrampicarsi. Si può arrampicare massimo fino al valore della capacità di movimento meno il valore dell'armatura. Quando ci si arrampica ci si muove fino a doppio del movimento meno il valore dell'armatura. Se mai questo valore fosse zero o inferiore allora il personaggio è troppo pesante per salire la scala e arrampicarsi. Quindi nel nostro esempio se la nostra caratteristica di movimento è quattro, il valore di armatura è uno e si sta cercando di salire due pollici e mezzo. Lo si può fare perché quattro meno uno è tre quindi fino a tre pollici avremo potuto arrampicarci. Quindi possiamo muoverci quindi per un totale del doppio della caratteristica di movimento quindi otto meno il valore dell'armatura uno sette in totale. Quindi possiamo fare uno spostamento di uno, i nostri due e mezzo, tre e altri quattro per completare il movimento. Vediamo l'ultima delle azioni di movimento avanzato ovvero trascinare. Si possono trascinare oggetti o personaggi. Non si può mai trascinare un oggetto o un personaggio con un valore di armatura doppio al proprio. Quando si trascina un personaggio bisogna eseguire un test come prima di movimento meno valore dell'armatura e cercare di ottenere 10. Il personaggio o l'oggetto trascinato si può muovere quindi insieme al personaggio che sta trascinando fino al massimo della caratteristica di movimento più un pollice per ogni successo ottenuto durante il test. Mettiamo che il nostro personaggio abbia movimento 4 e armatura 1 come al solito e anche il amico eroe che si sta cercando di trascinare abbia armatura 1. La caratteristica sul quale si esegue il test quindi è movimento meno valore di armatura 4 meno 1 3. Si tira quindi 3 dadi e si deve ottenere 10. Abbiamo ottenuto 2 successi che vuol dire che possiamo muoverci fino al valore di movimento più 2. Un personaggio eroe può decidere di terminare il suo movimento in qualsiasi direzione. Un personaggio nemico può solo terminare orientato nella direzione in cui si è mosso. Un personaggio eroe durante qualsiasi dei suoi movimenti può decidere di terminare il movimento nello stato prone a terra. Un personaggio che si trova nello stato prone può spendere un'azione per entrare nello stato dug in. Questo stato gli concede un ulteriore oscurato più 1. Vediamo adesso le linee di vista. Un personaggio che si trova per metà o meno della sua vasetta coperto sarà considerato oscurato 1. Che vuol dire che si va ad aggiungere un più 1 al range effettivo durante lo sparo. E il personaggio che riceve lo sparo mentre si trova nello stato oscurato 1 Aggiungerà 1 al suo valore di armatura. Se invece il personaggio è per più di metà della sua vasetta ma ancora visibile Si considererà come oscurato 2. Che vuol dire che si aggiunge 2 al range effettivo. E questo personaggio andrà a incrementare il suo valore di armatura di 2 se colpito. Si è considerati oscurato di livello 3 solo nel caso in cui il personaggio è oscurato 2 mentre prone ha utilizzato una delle sue azioni per entrare nello stato dug in. Quindi mettiamo che il personaggio sulla destra stia cercando di sparare al personaggio sulla sinistra. Si va ad utilizzare per il nostro test la caratteristica del personaggio F combattimento. A questa si andranno aggiungere eventuali segnalini di supporto su chi sta sparando o segnalino bersaglio su chi sta ricevendo il colpo. Mettiamo caso al momento che non siano presenti segnalini né supporto né bersaglio. Quindi si va a misurare la distanza fra chi sta sparando e chi è colpito. A questa si aggiunge la visibilità. Il livello di visibilità in Zero Dark è abbastanza importante e tematico. Ed ogni scenario ha un diverso valore di livello di visibilità che va da 0 e 1 che sta per buona visibilità fino al buio 2-3 o buio pesto 4-5 fino al buio totale 6 che è il massimo valore di visibilità. Ovviamente come è chiaro maggiore la visibilità maggiore sarà la difficoltà a colpire personaggi che sono anche vicini. Mettiamo che ad esempio in questo caso ci troviamo in una missione con visibilità 3. Alla nostra distanza 6 andremo ad aggiungere 3 la visibilità per un totale di 9. A questa si aggiunge infine il valore dell'armatura del bersaglio che in questo caso mettiamo sia 1. Quindi 6 più 3 più 1 per un totale di 10. Mettiamo che la caratteristica di attacco F fosse 3. Si tira 3 dadi. 7. 3. 10. Siamo riusciti a ottenere un successo. Il nostro bersaglio potrà tentare di difendersi e parare il colpo eseguendo un test sul proprio valore di armatura come caratteristica. In questo caso abbiamo detto che era 1. Quindi un solo dado. E ottenere uno dei valori dei dadi con i quali si è formato il successo. Quindi o 3 o 7. Avendo fatto 11 non si va a annullare nessuno dei dadi con i quali si era formato il successo e si incassa una ferita. Potete indicare i segnalini di supporto e bersaglio in qualsiasi maniera vi sia più comoda. Ho utilizzato ad esempio in questo momento questo dado come segnalino supporto e questo scudo come segnalino bersaglio. Rifacciamo quindi il nostro esempio. Se la distanza è 6 la visibilità è 3 abbiamo detto 9 più 1 l'armatura 1 il risultato del dado da ottenere quindi è sempre 10. Però se la nostra caratteristica F era 3 adesso è aumentata di 1 per il segnalino di supporto e 1 per il segnalino bersaglio. Quindi per un totale di 5 dadi. Primo successo e secondo successo. Se il bersaglio a cui si spara ha un segnalino bersaglio si otterrà sempre un successo automatico che si va ad aggiungere ai nostri successi ottenuti dai dadi. Quando ha risolto gli effetti si va a rimuovere il segnalino bersaglio. Si può rimuovere un segnalino bersaglio se non si è in linea di vista con un nemico o un eroe nemico eseguendo un test di disciplina con valore 13. Quando con un'azione di movimento si entra in contatto di basetta con un personaggio nemico o eroe nemico si ottiene un'azione bonus di combattimento corpo a corpo. Durante un'azione di combattimento corpo a corpo entrambi i personaggi testeranno quindi entrambi tireranno i dadi allo stesso momento applicando eventuali modificatori. Un test per il combattimento corpo a corpo è eseguito sulla caratteristica disciplina e il valore per ottenere un successo è il valore F più D del nostro nemico. Quindi combattimento più disciplina. Ogni successo sarà un colpito. Questi successi non possono essere parati almeno che il nostro nemico non indossi un'armatura speciale. Mettiamo quindi che il valore di disciplina del personaggio sinistra sia 2 e il valore di disciplina del personaggio alla destra sia 3. Il tiro del personaggio sulla destra deve ottenere un risultato pari a F più D del personaggio sulla sinistra che mettiamo a caso siano 2 e 2. 2 successi. Il nostro personaggio di sinistra deve colpire il personaggio sulla destra che avrà 2 più 3, 5. 2 successi. Quindi entrambi subiscono 2 ferite. Quando un personaggio subisce un attacco a distanza anche se questo fallisce sarà necessario testare per lo stress. Questo avviene sul valore di disciplina e bisogna ottenere un valore di 10. Mettiamo ad esempio che questo personaggio abbia disciplina 2. Non ha passato il test allo stress quindi ottiene un segnalino stress. I segnalini stress sono cumulabili fino a un massimo di 4. Quando il test è fallito il personaggio automaticamente ottiene un'azione bonus di movimento per permettergli di muoversi in copertura. Se l'azione non fosse sufficiente a muoversi in copertura il personaggio diventa automaticamente pro. Se l'azione di movimento non fosse sufficiente a metterlo in copertura allora il personaggio è praticamente lo stato prone. Quando un personaggio ha un segnalino stress non può eseguire altre azioni che quella di recupero che vedremo tra un attimo. Se il personaggio avesse superato il test come in questo caso allora si rimuove un segnalino stress ed eventuali successi aggiuntivi si possono spendere subito per azioni bonus. Un'azione di recupero serve appunto a recuperare un personaggio che si trova un segnalino stress. Si esegue sul valore di disciplina e bisogna ottenere 10. In questo caso è fallito. Se invece riesce a ottenere 10 o più si va a rimuovere un segnalino stress. Un'altra possibile azione è quella di medicare. Si può medicare se stessi o un altro personaggio in contatto di basetta. Il test si effetta sulla caratteristica acutezza e bisogna ottenere 13. Ogni successo rimuove una ferita. Ad esempio in questo caso un successo va a rimuovere una ferita. Soltanto personaggi nello stato ferita 1 o 2 possono curare se stessi. Un'altra possibile azione è quella di interagire con un oggetto. Se non differentemente specificato dalla missione questa è un'azione automatica che non richiede nessun test. Un'altra possibile azione è quella di entrare nello stato di Overwatch. Il personaggio si trova nello stato di Overwatch può interrompere un'azione di un personaggio amico o nemico che entri nel suo campo visivo o nel cilindro di consapevolezza che è il doppio del valore di disciplina. Quindi il personaggio in Overwatch ottiene un'azione bonus di qualsiasi tipo da utilizzare immediatamente. Vediamo adesso quali sono le azioni bonus possibili. La più comune è quella di muoversi fino a metà della caratteristica di movimento. Un'altra azione possibile è quella di saltare. Un'altra azione possibile è quella di sparare. Oppure ottenere lo stato prone. Eliminare un altro personaggio che si trova nello stato down a contatto di vasetta. Oppure ottenere un segnalino supporto. Ogni azione bonus può essere eseguita una sola volta per azione. Quindi non si potrà sparare due volte o muovere due volte. Vediamo adesso l'azione di buffing. Soltanto un eroe con il miglioramento EWOP può utilizzare azioni speciali di buffing o hacking. Mettiamo a caso che il nostro personaggio di destra sia uno di questi. E vuole fare un'azione di buffing sul personaggio di sinistra. Il buffing è sempre un'azione che si esegue su un personaggio amico. Per avere un successo in un'azione di buffing bisogna eseguire un test sulla caratteristica di acutezza. E ottenere un valore pari alla distanza al personaggio su cui si sta lanciando un buffing. Quindi mettiamo che il nostro personaggio di destra abbia una acutezza di 4. E quindi debba ottenere 4 cioè la distanza. In questo caso sono ben 1, 2, 3 e 4 successi. I successi possono essere spesi in una delle seguenti azioni di buffing. Aggiungere un segnalino di supporto. Rimuovere un segnalino bersaglio. Aggiungere uno alla caratteristica firewall di quel bersaglio. Cambiare il programma di un robot amico. O cambiare lo stato acceso spento di uno degli oggetti della squadra. Mettiamo invece adesso che il personaggio di destra voglia tentare un'azione di hacking sul personaggio di sinistra. Quindi il personaggio di sinistra è un personaggio nemico. L'azione di hacking si esegue nello stesso modo del buffing. Quindi si fa un test sulla acutezza del personaggio. Con il valore per ottenere un successo della distanza verso la persona bersaglio su cui si sta tentando l'hacking. Le possibili azioni di hacking sono Rimuovere un segnalino di supporto. Ridurre il firewall del bersaglio di uno. Aggiungere un segnalino bersaglio al bersaglio. Rimuovere eventuale stato di dominazione. Se il bersaglio è un altro E, W, P, E, W, P. Imporre lo stato stordito. Entrare nello stato di interfaccia. Vedremo dopo di cosa si tratta. Epurare un'intelligenza artificiale. Cambiare il programma a un robot nemico. E cambiare lo stato di un oggetto da acceso a spento di un nemico. I personaggi sintetici sono passibili allo stato di dominazione. E' un'azione speciale che si esegue nello stesso modo in cui si esegue un'azione di hacking. Ma il personaggio deve essere sia sintetico che avere un segnalino bersaglio e non avere nessun token di supporto. Un personaggio eroe dominato perde qualsiasi miglioramento e ottiene lo stato dominato. Il personaggio manterrà le stesse caratteristiche ma sarà controllato dal personaggio che ha eseguito l'azione di dominazione. Se si esegue una dominazione su un personaggio nemico allora è presente una tabella che specifica le caratteristiche per ogni tipologia di nemico. L'azione che permette alle AWP di entrare nello stato interferenza permette a quel personaggio di eseguire alcune azioni speciali come nascondersi o duellare telepaticamente o prevedere cosa faranno i nemici. Ma non entreremo nello specifico di queste azioni in questo tutorial. Stesso per l'azione di curare una I. Andiamo adesso a vedere come si comportano i nemici. Come abbiamo detto più volte a seguito dell'azione dell'eroe si andrà a girare una carta dal mazzo dei nemici. Il seme della carta va a indicare il comportamento del nemico come azione principale alla quale seguirà un'azione secondaria che generalmente se non specificato diversamente dalla missione sarà un normale movimento la quale distanza dipende dalla tipologia di nemico. Quando un nemico attacca si andrà ad utilizzare la caratteristica attacco in funzione di se è un scagnozzo, un soldato semplice quindi o un Elite o Boss. E tutto il resto della procedura è identica a quella che useremo per un normale personaggio eroe. Quindi se la caratteristica è due si va a tirare due dadi e si cerca di ottenere il valore di distanza più visibilità della missione più il valore dell'armatura del bersaglio. Anche per i nemici se questi hanno un segnalino supporto andranno a incrementare la propria caratteristica di attacco oppure se l'eroe a cui sparano ha un segnalino bersaglio andranno ugualmente ad aumentare la propria caratteristica di attacco. Quindi ad esempio in questo caso un soldato semplice ha attacco 2 ma attaccando un personaggio con un segnalino bersaglio diventa attacco 3. Ed inoltre ricordiamoci che il segnalino bersaglio è sempre un successo automatico quindi anche se dovesse fallire il test di sparo comunque sarebbe un colpo entrato. Anche i nemici quando entrano in contatto di vasetta con un eroe guadagnano un'azione di combattimento corpo a corpo gratuita. Non beneficiano di eventuali segnalini bersaglio sull'eroe ma beneficiano di eventuali segnalini di supporto. E anche in questo caso il comportamento durante il collazione di corpo a corpo è lo stesso che abbiamo già visto per l'eroe. Mentre un eroe se vuole colpire un nemico in corpo a corpo dovrà ottenere 5 per il soldato semplice, 6 per l'elite e 7 per il boss. Quando si spara un nemico per ogni colpito si va a togliere prima un segnalino supporto e poi si va a contro la caratteristica di ferite del nemico. Quindi ad esempio se il soldato semplice ha una sola ferita e si ottiene un successo sarà sufficiente a metterlo nello stato a terra ma non sarà sufficiente a eliminarlo dal gioco. Per eliminarlo ci vogliono almeno un successo in più della caratteristica di ferita quindi almeno due successi per il soldato semplice. Come vedremo un nemico a terra potrà sempre essere riportato nello stato normale da delle carte azione principale nel mazzo degli eventi per i nemici. Ricordiamoci che i danni assegnati ad un nemico non sono mai cumulativi quindi sarà richiesto l'esatto numero di ferite della caratteristica del modello nemico per poterlo mettere a terra o eliminarlo dal gioco in una sola azione. Ad esempio assegnando una ferita al soldato elite in questo turno non vorrà dire che sarà sufficiente un'altra sola ferita al prossimo turno ma sarà comunque necessario due ferite o più per poterlo mettere o a terra o eliminarlo dal gioco in una sola azione. Quindi quando andiamo a girare la carta del mazzo dicevamo che ad esempio picche è un'azione di attacco perché vuol dire che se il nemico ha linea di vista questo attaccherà il personaggio più vicino che non è fuori combattimento con il quale può tracciare linea di vista e quindi muovere verso quel personaggio in linea di vista che non è fuori combattimento. Oppure se il nemico attivo non ha linea di vista allora muoverà comunque verso il più vicino eroe. Fiori invece è un'azione di comando se il nemico ha linea di vista attaccherà il personaggio più vicino al quale può tracciare linea di vista e quindi ottiene un token di supporto. O se il nemico non ha linea di vista questo muoverà verso l'eroe più vicino e otterrà un segnalino di supporto. Quari è un'azione di supporto il che vuol dire che il nemico attivo e il più vicino nemico a questo ottengono entrambi un segnalino di supporto e se c'è anche solo uno dei nemici a terra questo non sarà più a terra. E questo appunto è una delle casistiche di cui si parlava prima. Quadri è un'azione tecnica il che vuol dire che il nemico ottiene un segnalino di supporto e il personaggio più vicino che non è in uno stato di bersaglio ottiene un segnalino bersaglio. Oppure se tutti i personaggi hanno il segnalino bersaglio allora il nemico attaccherà il più vicino personaggio ignorando la regola sulla linea di vista. I nemici possono avere un numero di segnalini di supporto pari al loro tipo quindi un soldato può avere un massimo di un segnalino di supporto, un elite può avere massimo due e un boss tre segnalini di supporto. Quando si spara ad un nemico si andrà sempre ad aggiungere la caratteristica di difesa che varia in funzione del tipo di nemico. Quando si pesca un numero quindi da 2 a 10 questo vuol dire che andremo ad attivare un soldato semplice. Se invece peschiamo una figura allora andremo ad attivare un elite. Un asso vuol dire eventuale boss. Ed infine i jolly. Il jolly vuol dire una complicazione quindi un evento esistono due tabelle di eventi una è quella base ed una è quella di complicazioni avanzate. Per decidere quale evento si lancia semplicemente un dado e si va a controllare la tabella. Generalmente gli eventi implicano l'arrivo di nuovi nemici. Qualora estraessimo un numero e non ci fossero nemici di quella tipologia disponibili sul campo si muove subito alla tipologia successiva. Quindi in questo caso se dobbiamo attivare un soldato semplice e questo non è presente si va ad attivare un soldato elite. Se anche questo non fosse presente si attiva di nuovo quello successivo quindi un boss. Se anche il boss non fosse presente allora si va ad attivare un evento. Come si può vedere dal manuale sono contemplate anche altre tipologie di nemici quando il giocatore prende confidenza con la meccanica di gioco. Nemici che sono in grado di apportare attacchi di tipo elettronico quindi hacking o buffing. Mecc, nemici di supporto pesanti o cecchini. Ognuna con una specifica caratteristica o miglioramento che rende il gioco più interessante. Oltre a questi esiste la possibilità di fare entrare in gioco dei nemici sintetici che possono essere quindi dei robot o un'intelligenza artificiale. Quando ci viene richiesto di spiegare i nemici sul terreno di gioco generalmente la missione specifica quali sono le condizioni e le modalità. Ma generalmente ci viene chiesto di immaginare una griglia 12x12 con al centro in 6x6 l'obiettivo principale. Si può attirare due dadi che rappresentano le varie colonne e le righe per trovare l'intersezione dove andare a collocare il nemico. Nel manuale poi c'è una completa spiegazione su come implementare una progressione tra missioni quindi una modalità campagna. Come si ottiene le esperienze, come la si può spendere per acquisire miglioramenti, come cambiare il livello di difficoltà. Ad esempio per aumentare la difficoltà si potrebbe dispiegare i nemici con già un token di supporto. Oppure per renderlo più facile si potrebbe dispiegare i nemici in uno stato con un segnalino bersaglio. In funzione di la difficoltà si ottengono più o meno punti esperienza. I nostri eroi generalmente dispiegano o agli angoli o ai lati. Poi c'è una missione molto base per apprendere le regole di gioco. Si incontra poi una mini campagna di tre missioni molto divertenti collegate tra loro. E infine ci sono altre tre missioni per il gioco uno contro l'altro che sono state riviste e bilanciate per una migliore efficacia nel gioco competitivo. Infine un po' di storia che non guasta mai. Facciamo infine qualche accenno ai miglioramenti possibili per le ROE. Devo dire che sono davvero moltissimi e ci permettono una vasta personalizzazione dei modelli. dalle specializzazioni quindi uno può essere leader piuttosto che medico piuttosto che l'hacker della situazione ai vari gadget come eventuali esoscheletri o scudi di combattimento. Sono molti altri dispositivi che ci permettono di migliorare i nostri personaggi come granate, mine di vario genere, dispositivi che si possono andare a collocare in campo e sparare in maniera automatica, visori termici, fumogeni, esplosivi, caratteristiche che migliorano le armi, tratti dei personaggi come inumano o particolarmente portato per l'utilizzo delle armi da fuoco, stealth, così come la possibilità di fare dei personaggi sintetici quindi robot, droni, l'utilizzo di droni. I robot hanno una molto interessante tabella che gli permette di comportarsi quando vengono programmati con l'azione durante un hacking per programmarli e seguono proprio una tabella come se fossero dei veri e propri software. Poi ci sono addirittura gli alleati, sono come una parte integrante dell'eroe ma a tutti gli effetti un altro modello. nel campo da gioco con delle proprie caratteristiche, ad esempio il cane, quindi l'animale, quindi come detto è estremamente interessante la possibilità di avere molteplici configurazioni della propria banda e del proprio eroe che possono essere anche implementate durante il gioco tra missioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti.